Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Sport 07 e siamo qui per parlare di MotoGP Allora ragazzi, ieri ho visto la gara, ho visto comunque un buono spettacolo da parte delle MotoGP Mi sono comunque divertito, l'ho vista, ho stato dato solo i primi giri, ho visto solo che in partenza Vignales non ha fatto una buona partenza Però comunque il Qatar non è mai, magari un po' come lo può essere la Formula 1 con il Bahrain, in un punto di partenza Perché se il Bahrain, ieri iniziò la Formula 1, è in Bahrain, bene o male il Bahrain alterna curve ad alto carico aerodinamico Dove serve una macchina forte di telaio, a grandi rettilini dove serve una macchina forte in rettilino appunto Il MotoGP è risaputo che le Ducati sono le migliori moto sul rettilinio Ma ieri non hanno trionfato Però comunque Qatar si sa che non è, nella MotoGP non puoi mai vedere da una gara come vai tutto l'anno Perché magari non è più come nel 2017, 2016, 2015, se lo lottavano tre piloti No aspetta, 2014, 15 e 16 mettiamo, se lo lottavano tre piloti Marquez, Lorenzo e Rossi E Pedrosa, va, quando l'incollava Però per il resto Vi complimenti a Vignales Che comunque, c'è già, si spunti dal fenomeno, Vignales Li ha sempre voti dalla MotoGP 3 Solo che, come la sua scuaderia, la Yamaha è sempre stato molto molto altalenante Lui ha preso la Yamaha Vignales è sempre molto molto altalenante Vedremo, quindi ottima vittoria per lui Ha gestito perfettamente la gara nonostante non un ottimo avvio Quindi complimenti assolutamente a Vignales e alla Yamaha Comunque il quartiere loro non ha fatto neanche tanto male Quinto Le Ducati ne hanno avute più di lui Però anche lui paga l'inesperienza con la MotoGP Non è un mistero che Zarco Che comunque, se non sbaglio, dal terzo anno Con la Ducati Desmo 16 Io la chiamo Desmo 16-2 Però tecnicamente non si chiama Desmo 16-2 Ma si chiama Desmo 16-Pramac Vignales al quinto anno con la Yamaha Quindi insomma ragazzi Alla fine chi è stato più cosciente della moto Inizia sempre meglio Un po' come ieri in Orris rispetto a Ricciardo Sul passo gara in McLaren O di Stroll rispetto a Vettel in Aston Martin Anche se sul passo gara in realtà Vettel è stato più o meno simile a Stroll Semplicemente Vettel è partito dalle retrovie Auguro il meglio alla Yamaha Perché comunque a me piace veramente tantissimo A Cartelaro Non si può dire lo stesso comunque del Team Petronas Del Sepang Racing Team Quello dove stanno Rossi e Morbidelli La Yamaha quella farlocca Diciamo così La Yamaha degli altri Per quanto riguarda invece la Suzuki Suzuki mi è piaciuto moltissimo Mir ha dimostrato della stoffa del campione Che secondo me non aveva La stoffa del campione Mir Invece l'ha dimostrata veramente ampiamente Io credevo che quest'anno Fosse più l'anno di Rinze rispetto all'anno di Mir E invece Mir ieri mi ha fatto vedere una bella gara Nonostante Rinze le stavano davanti per più di metà gara Però nella gestione delle gomme sembra veramente un fenomeno Lui ha presso la Suzuki Perché la Suzuki Innanzitutto non era una pista adatta alla Suzuki Però la Suzuki si dimostra un'auto Una moto che non è da qualifica ma è da gara Un massino da gara è la Suzuki Sia con Rinze che con Mir Che cercheranno di ottenere più punti possibili Per arrivare alla fine del campionato Senza ritiri Con una moto molto affidabile Senza ritiri Ad ottenere più punti possibili E per cercare di vincere nuovamente il campionato Come hanno fatto lo scorso anno La delusione invece è stato il team Petronas ragazzi Team Petronas Vabbè quello dove stanno Morbidelli e Rossi Perché Morbidelli è diciottesimo Per un problema di affidabilità Rossi dodicesimo per un problema di gomme Quindi insomma Non è un buon weekend Da dimenticare per i due italiani Della Yamaha Petronas Della Yamaha Seipang Non so come cazzo La valete che la chiamate Però insomma sicuramente Un gran premio da dimenticare per loro Hanno avuto un tremendo problemi Vediamo in Qatar 2 Se questi problemi verranno Quanto meno limitati Perché ci sono Molto davanti a loro Sicuramente di gran lunga Abbordabili Secondo il mio punto di vista La Ducati Ha avuto problemi di gestione delle gomme Come ogni gran premio peraltro La Ducati ha sempre Problemi di gestione delle gomme Ragazzi Però mi è piaciuto Bagnaia Considerato che ha ottenuto 8 punti in 3 gare Lo scorso anno Nelle ultime 3 gare Ho ottenuto 8 punti Quindi non proprio Un buon finale di campionato Per Bagnaia Che tra 4 gare Da infortunato 4 ritiri Quindi insomma Ha avuto Pochissimo per mettersi a disposizione Per mettersi in mostra E' stato promosso lo stesso Perché comunque era necessario In Ducati Questo cambio generazionale Comunque ci sta Pagano l'inesperienza Perché se ci fosse stato vizioso Per me l'avrebbe portato Il vittore a casa Questo è stato fatto Un cambio per il futuro Ragazzi Perché comunque Bagnaia e Miller Tutti due insieme Hanno Penso 20 anni in meno Se non di più Rispetto a Fraschka da Fig E Fraschka da Sparman Bet Come si chiamano Rispetto a A Petrucci Petrucci Sì Rispetto a Petrucci E al Buon Tuvizioso Quindi molto molto bene Bagnaia Molto bene anche Zarko Miller ha accusato più di Bagnaia Il calo delle gomme Questo mi fa capire Che tra i due Forse nel gestire meglio Le cose da rettiline Le Le piste da rettiline E Bagnaia Vedremo Può darsi pure Che è un problema Facilmente risolvibile Che Miller dice Per gestire meglio le gomme Faccio così A curva 1 Per dire E quindi il problema è risolto Miller sarà davanti Bagnaia Purtroppo è così Inutile Se fermarsi da ora E dire Bagnaia è più forte di Miller Lo spero Se è un italiano Lo spero Bagnaia sta facendo vedere Veramente delle bellissime cose Così come le ha fatte vedere Morbidelli lo scorso anno Così come le ha fatte vedere Bastianini Che con il team Avintia Si chiama Avintia Che mi sa che si può chiamare pure Sky Racing Team Però Bastianini ha fatto vedere Delle belle cose Decimo Bravo Bravo Enea Bastianini Speriamo in altre gare Molto molto bene ragazzi Volevo sottolineare Un Alex Spargaro Velocissimo Tutto il weekend Quindi molto molto bene L'Aprilia Che è crescita tanto Non me lo aspettavo sinceramente Non me lo aspettavo per niente Ma veramente molto molto bravo Alex Spargaro Che conclude settimo Cercherà di ottenere I più punti possibili Però secondo me Non può giocarsi i podi Come magari Se la giocano gli altri Vedremo Può dare sempre Se li giocherà Però è di certo Un buon inizio di campionato Questo per l'Aprilia Che è tornata in MotoGP Qualche anno fa E comunque Sta avendo una crescita Nonostante comunque Ho fatto degli ultimi posti L'anno scorso Veramente Come si dice Deludenti Quindi vedremo Comunque mi sembra Un'Aprilia In netta crescita Questa ragazzi Queste sono le mie opinioni Ricordo che Se il video ti è piaciuto Dimmi da lasciare un mi piace Caso contrario Dislike Commento se siete d'accordo Disaccordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione Un link per secondarmi Su Instagram Per intavolare qualche discorso Anche lì nei direct Da Mono Sport 07 E tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Ciao